questa generazione è una generazione malvagia essa cerca un segno gesù chiama gli ascoltatori generazione malvagia perché hanno il cuore indurito perché non sono disposti a prestare davvero ascolto perché la superbia gli acceca perché non sono capaci di riconoscere gesù per i segni che compie gesù chiede a noi di saper ascoltare di avere un cuore aperto a tutto ciò che viene a noi da dio di saperlo ascoltare quando ci parla attraverso la sua parola o attraverso una lettura o attraverso un'altra persona o ancora attraverso una situazione che stiamo vivendo ci chiede di saper scoprire quando si rivolge a noi per guidarci nel cammino della vita verso la santità gesù ci chiede di fidarci di lui e di vivere della sua parola come ha fatto la madonna proprio poco prima di questo episodio si legge la splendida lode di gesù a sua madre beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di dio e la osservano questo è l'atteggiamento della madonna durante tutta la sua vita papa benedetto xVI ha descritto questo atteggiamento di maria con parole molto belle la parola di dio è veramente a casa sua ne esce e vi rientra con naturalezza e la parla e pensa con la parola di dio la parola di dio diventa parola sua nella parola nasce dalla parola di dio